Chi mi avrebbe detto, quando tornavo così allegro da quella bella gita con mio padre, che per dieci giorni non avrei più visto né campagna né cielo? Sono stato molto malato, in pericolo di vita. Come sono diventati verdi gli alberi in questi pochi giorni e che invidia mi fanno i ragazzi che vedo correre alla scuola con i loro libri, quando mio padre mi porta alla finestra. Ma fra poco ci tornerò io pure. Sono tanto impaziente di rivedere tutti quei ragazzi, il mio banco, il giardino, quelle strade, di sapere tutto quello che è accaduto in questo tempo, di rimettermi ai miei libri, ai miei quaderni, che mi pare un anno che non li vedo più. Potrebbe essere un pensiero scritto in questi mesi da un bambino o una bambina costretti a casa dai postumi della pandemia. E invece è un estratto da cuore dal capitolo intitolato Convalescenza e datato 20 aprile 1882. Quasi i 140 anni separano l'attualità di oggi dall'episodio del romanzo di Demicis, ma è una distanza che nelle sale del Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia non si percepisce, in un continuo gioco di rimandi tra passato e presente. Opposti che si rincorrono e che dalle pagine di uno dei libri più conosciuti della letteratura italiana danno vita a una Torino in bianco e nero, tra le immagini di ieri e di oggi. E l'omaggio che il Consiglio regionale del Piemonte vuole fare a vita nuova, l'iniziativa online voluta dal Salone del Libro di Torino in attesa del prossimo maggio, quando si spera la kermessa letteraria tornerà nella forma che tutti conosciamo. Un'edizione costruita sulle coppie di concetti in apparenza contrapposti, da Oriente Occidente ad Antico Moderno, approfonditi da scienziati, filosofi, scrittori e comunicatori. Proprio nei giorni di vita nuova, da venerdì 4 a martedì 8 dicembre, sui canali social del Consiglio regionale, quattro fotoracconti faranno rivivere la Torino di Diamicis, descrivendo ieri e oggi gli angoli più significativi delle pagine di cuore. Scorci e personaggi scelti insieme al Museo della Scuola e del Libro per l'infanzia, custode al tempo stesso divulgatore dell'attualità del messaggio dei ragazzi della sezione Baretti. Il primo libro importante è che mette al centro non un eroe, ma un gruppo di bambini e quindi mette come protagonisti di tutta la storia, non è Enrico il protagonista di cuore, è un gruppo di bambini che sono uno diverso dall'altro dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche delle caratteristiche fisiche e psicofisiche e quello che emerge in cuore sono soprattutto le relazioni tra i bambini.